Buongiorno David, puntata numero 105, oggi tre news abbastanza veloci ma abbastanza croccantine. Vediamo un po', partiamo dalla news che ha fatto un po' incacchiare i ricercatori di sicurezza con Google perché Google ha avuto questa brillante idea di registrare, di proporre al pubblico due nuovi domini di primo livello, quindi due nuovi TLD che sono .zip e .mov, quindi se volete fare dei bei scherzoni potete registrare un dominio .zip. Qual è naturalmente il problema? Che .zip e .mov sono anche estensioni abbastanza note e conosciute di file e quindi è piuttosto facile creare delle URL malevole, maliziose, che portino un ignaro utente a cliccare, a scaricare magari del software malevolo, magari inviato per mail, in una mail confezionata ad arte per fare phishing. Quindi di per sé la cosa potrebbe non avere grosse ripercussioni, però sapete che inserita nel più ampio quadro del phishing e insomma del social engineering è piuttosto pericoloso ed è piuttosto interessante discutere, no? Google naturalmente fa questa cosa per ragioni commerciali, però forse le ragioni di sicurezza sono ancora più importanti. E c'è un bel articolo scritto da ricercatore di sicurezza Bobby Rauch su Medium che parla appunto di questo pericolo, di questi TLD, in particolare del .zip spiegando perché con il .zip, soprattutto con un bug noto di Chrome e di Chromium, è possibile creare un URL che assomiglia in tutto e per tutto a un'URL corretta, reale, per esempio di una release su GitHub, fa l'esempio di una release di Kubernetes, le release di Kubernetes hanno le cifre che indicano il numero della release .zip e naturalmente prima c'è tutto il path del repo di Kubernetes su GitHub, questo vale per tutte le release su GitHub, ecco che trasformare questo URL corretto della release Kubernetes in un URL malevolo, che punta magari all'ownload di un altro file, di un virus, è piuttosto facile, sfruttando il bug appunto che consente di inserire nell'URL degli slash, che non sono gli slash interpretati appunto dal browser come slash per il path, ma sono dei caratteri unicode che assomigliano a questi slash, però non vengono interpretati. E sfruttando questo e sfruttando la regola del browser che consente di mettere degli at nell'URL e tutto quello che c'è prima del at viene interpretato come lo username, ecco che mettendo lo username con gli slash fittizi e in fondo, soltanto come ultima particella, il nome del file, che non è il nome del file, ma il nome del dominio, punto zip, si può naturalmente facilmente ingannare l'utente. Qui su questo blog post è spiegato bene come funziona il meccanismo del browser per interpretare un URL e viene fatto un esempio molto dettagliato, insomma, di come sia possibile ingannare un utente presentandogli un URL che sembra legittimo, ma che in realtà porta a un problematico download. Quindi insomma, mossa di Google naturalmente per ragioni commerciali, vedremo un po' che cosa succederà. Adesso c'è anche una richiesta alla ICAN, che è l'autorità che gestisce i DNS su internet, di verificare se valga la pena magari flaggare questi domini o toglierli addirittura dall'elenco dei domini che vengono consentiti ai browser. Adesso bisogna vedere un po' che cosa succede. La seconda news è molto breve in realtà. Arch Linux ha migrato tutti i suoi repository su Git. È un'altra notabile migrazione a Git. Loro avevano tutti i repo su SVN e adesso sono migrati a Git, in particolare su GitLab. Quindi adesso a gitlab.archlinux.org trovate tutti i nuovi repo. Quindi naturalmente se siete utenti Arch Linux dovete aggiornare Pacman, che è il gestore dei pacchetti, perché tutti i repo sono cambiati. E niente, questo è abbastanza notabile, anche perché appunto si accoda alle altre notabili migrazioni a Git e a GitLab. che abbiamo visto, l'ultima ad esempio che abbiamo affrontato piuttosto corposa è stata quella di Drupal, che ha migrato tutti i suoi repo su Git e su GitLab. E in ultimo, una cosa che è un po' curiosa, più che una notizia è una cosa curiosa, non so a quanti potrà interessare avere un laptop senza lo schermo, ma con uno schermo in realtà virtuale, uno schermo virtuale da 100 pollici. perché questa azienda che si chiama Sightful ha deciso di creare un portatile che al posto dello schermo presenta degli occhialini, in realtà aumentata, collegati in modo fisso, in maniera fissa, quindi con un cavo che non si può staccare, alla base che ha la tastiera e il touchpad. E attraverso questo occhiale appunto si vede questo schermo gigante, curvo, da 100 pollici. Poi il laptop non presenta neanche grosse caratteristiche hardware, perché è uno Snapdragon con 8 giga di RAM e 256 giga di spazio, è praticamente uno smartphone neanche di alta gamma. E il sistema operativo è un custom su base Android, chiamato Spacetop OS, realizzato proprio dalla stessa azienda che commercializza il prodotto, prodotto tutto che costa 2000 dollari, ed è disponibile soltanto a inviti con una lista, eccetera. Altra cosa notabile, non c'è un Play Store, quindi non si possono installare app in questo laptop, ma soltanto aprire un browser e installare app attraverso le PWA, attraverso il Progressive Web App, quindi si possono soltanto aprire app via browser. Naturalmente è la stessa filosofia di Chrome OS, Microsoft 365, Slack, Zoom, Teams, eccetera, Google, Workspace, naturalmente, tutto quanto è già presente nel browser, quindi per l'operatività, però in più avete questo schermo gigante dove gestire molti finestre. Peraltro attraverso appunto il punto di vista dell'utente si può andare a selezionare una finestra e poi attraverso il touchpad ingrandirla, diminuirla. Quindi in teoria, a meno chi l'ha provato, parlano appunto di un'esperienza abbastanza intuitiva come gestione, con pochi problemi, in realtà qualche problema di flickering dello schermo, qualche problema di centramento non perfetto, che può essere risolto direttamente dalla tastiera. Però naturalmente tutto quello che cambia in realtà è il metodo di fruizione, invece di avere lo schermo davanti c'è questo schermo virtuale gigante, che è un modo di utilizzare il PC abbastanza curioso, però mi ha fatto venire in mente in realtà una buona idea dal punto di vista della privacy, perché con uno schermo naturalmente chiunque può venire a venire a vedere, con gli occhialini invece no, solo voi potete vedere quello che state facendo sul vostro laptop. Quindi da questo punto di vista effettivamente c'è un guadagno, c'è un guadagno di privacy, nessuno può vedere quello che state facendo. Non so se questo metodo di fruizione avrà successo, però insomma complimenti all'azienda che ci ha scommesso, a questa Sightful che ha deciso di scommettere su questo laptop, e vedremo un po' se sarà l'unico esempio o se si andrà avanti. Sappiamo che Meta sta lavorando a occhialini basati appunto su Android, che dovrebbero creare un'esperienza simile a quella dello smartphone, però con occhiali e con interfacce da polso, quindi con specie di smartwatch per comandarlo, quindi l'idea potrebbe essere di andare in quella direzione in futuro, però vediamo se gli utenti sono pronti a una transizione di questo tipo già oggi o se bisognerà aspettare ancora un po'. Insomma abbiamo chiuso anche questa puntatina del lunedì, un po' diversa dal solito, naturalmente forse ve ne sarete accorti, soprattutto chi mi ha guardato, che ha guardato anche il video, spero vi sia piaciuto, ho provato, naturalmente provo, sperimento, provo cose nuove, ve l'ho detto, quindi se vi piace fatemelo sapere, se non vi piace fatemelo sapere, lo stesso, anzi è più importante ancora, e comunque per tutti gli altri, noi ci vediamo fra qualche giorno, per la prossima puntata, domani però super importante, naturalmente domani pomeriggio, live dalle 4 mi pare, non mi ricordo, seguiteci su Telegram, sto parlando di Continuous Delivery, podcast super importante, super frizzante e super croccante, che ogni due settimane viene a rallegrarvi il martedì. Ciao!